Un consiglio al presidente Lotito che in questo momento sta probabilmente cercando di dirimere la matassa Sarri. Tenerlo o non tenerlo? Quando un allenatore forse non è più ben gradito ai suoi giocatori, che si fa? Dunque, signora, intanto io non posso dare consiglio a Lotito. Di lungo corso come lei ha detto? Sì, molto di lungo corso, questo è vero, però non do mai consigli. Poi io stimo molto Sarri, è arrivato a un passo dal Milan, quindi non faccio molte cose, e quindi non posso dare consigli, ma lo terrei, Sarri. Senta, c'è chi accosta Balladino alla Lazio. Balladino è un grande allenatore e quando stai con una grande persona, di qualunque senso sia, c'è il rischio che te la portino via. Speriamo di no, è in scadenza il 30 giugno. Buona giornata.